I sindacati che vogliono contestarci chiedo dove eravate in questi anni a combattere il lavoro nero nel turismo e le illegalità negli appalti dove eravate in questi anni a denunciare gli stage truffa dove eravate in questi anni a dare regole e diritti ai praticanti sottopagati negli studi professionali dove eravate in questi anni eravamo a dare un contratto a tempo indeterminato agli associati in partecipazione assunti nei negozi delle nostre città a proposito Matteo tu dove eri noi siamo qui